Buongiorno, sono Nicoletta e lavoro presso lo studio dentistico Zurlo e Ruffato che si trova a Tette su Breta. Il dottor Zurlo e il dottor Ruffato sono molto attenti all'igienizzazione e la sanificazione che per azzerare la carica batterica e la carica virale viene effettuata ad ogni cambio paziente con Birba. La usiamo da 13 anni e ci ha molto aiutato nel programma di sanificazione. Con Birba non abbiamo problemi su tutte le superfici che noi andiamo a trattare, lei si adopera bene e non lascia alcun alone e alcun problema anche ai macchinari. Come da protocolli, finita l'igienizzazione con i nostri prodotti, passiamo Birba per azzerare la carica batterica anteriormente. Un saluto dal dottor Zurlo, dal dottor Ruffato e da tutto il suo staff con la consapevolezza di garantirvi una sicurezza e un'igienizzazione. Vi aspettiamo!